Sì, ti dicevano che facevi turni o che, ma io una volta sono tornata da New York, ripeto, 13 ore, dice, non c'è nessuno oggi, lei riparte adesso? Dico, io posso anche ripartire, non so poi che lavoro posso fare, perché? Eh, lì bisognava andare a mangiare a tutti, col vasso, le cose, erano tanti, e poi quello vuole l'acqua, quell'altro vuole quello, poi dopo quello si alza, poi quello non esce più dalla toaletta e ci vuole andare a quell'altro, eravamo tre per l'America, due hostess e lo steward. Gli steward, che loro erano tutti ragazzi per bene, tra di uno che si dava un sacco di aria, e va bene, ma quello poche volte mi capitava. Ma ce n'era un altro che si chiamava Ercolano, un ragazzo napoletano, come il cognome probabilmente, e le cose, molto a posto, molto carino, solo ci aveva, noi ci eravamo a corte, paura di volare. Allora, se questo acqua in bocca, perché se lo dissi io mandavo via subito, insomma, non era cosa nostra, allora lui lavorava però, faceva, ma c'era una paura. Allora, un giorno, malauguratamente, io e la mia compagna ci sediamo per mangiare noi. E lui dice, che vi porto? Dico, guarda, portaci un aperitivo, il ghiaccio lo prendi dall'incavo della porta. Siccome lui sapeva che il ghiaccio non c'era, perché lì c'era l'aria pressurizzata e non esisteva, solo per aver detto questo, arriviamo a New York e lui dice, ma no, dico, abbiamo scherzato, ma lo vedi? Dico, dai, Ercolano, su, eh, ecco, vabbè. Arriviamo a New York, siamo i famosi tre giorni, poi a quell'ora scendiamo nella hall dell'albergo e il comandante ci dice, avete visto Ercolano? No. In questi giorni l'avete visto? No, comandante, e non l'avevamo visto. Ma, strano, perché lui doveva andare, era il suo compito, andare al ristorante che faceva i rifornimenti, che caricava tutto il cibi, le cose, e quello toccava a lui andare a vedere che ci fosse tutto, eccetera, e non c'era andato. E allora il comandante dice, vabbè, vanno a vedere in camera, c'era la divisa pulita, perché noi appena arrivavamo gliela davamo a pulire, ricorda, gli davamo una, ma, eh, insomma, non ci può stare così, e quindi, vabbè, non c'era, divisa pulita, nessuno ha visto Stercolano. Allora il comandante fa la denuncia, partiamo in ritardo, naturalmente, deve denunciare che mancava, e poi in America erano, guarda, ci spellavano la dogana, eh, era una cosa terribile, c'è, facevano anche le visite personali, allora, eh, e, insomma, sparito Ercolano, ripartiamo, e dobbiamo fare tutto noi, va bene. Stercolano mai più saputo niente, dopo circa un anno, finalmente lui non era neanche andato a ristirare lo stipendio che ci dovevamo andare a Via del Tritone, c'era, di qua, ecco, che cosa aveva fatto? era stata tale la paura di volare che lui ha trovato là una vecchia, una biscugina, ormai americana, e se l'è sposata subito dicendo che l'amava, questo lo raccontò lui poi moltissimo, perché così non volò. Te dico certe cose, certe scenette che sono formidabili, Grazie a tutti